Alice, ma la cicatrice quando passa? La cicatrice non passa. È come una medaglia che nessuno ti può portare via. Così, quando Zeta è grande e ormai il principe non gli fa più paura, si ricorda chi ha vissuto, chi ha fatto tante avventure, chi è caduto e si è rialzato. Ma perché non passa? Perché è una cicatrice. Se andava via con l'acqua era un trasferello. È una cosa che fa paura, ma è anche una cosa bella. È la vita.